Per quel motivo che siamo usciti fuori oggi, in tutti questi tre mesi che abbiamo fatto fuori, all'inizio c'era la schiavitù, diciamo che si trattava di lavorare male e la paga era troppo bassa e dicevo quello che volevano i padroni. Alla fine abbiamo cercato di riunirci e fare le cose tutti insieme per non accettare quella schiavitù che stava succedendo dentro. Purtroppo oggi siamo arrivati fino qui e stiamo cercando di lottare fino alla fine con tutte le nostre forze, perché all'inizio eravamo lì che tu lavori e qualcuno ti dice quello che vuoi e tu devi andare in bagno e lui che deve decidere e queste non sono le cose giuste, per quale motivo che siamo usciti fuori, perché c'è molti soldi, per la schiavitù e per le cose che diciamo che non rispetto ai lavoratori. Oggi siamo qui per questo sogno, fino a oggi stiamo andando, non sappiamo, però siamo pronti ad andare fino avanti fino alla fine e finché quella storia non finisce non andrò mai di quella parte.